Il decimo concorso ippico internazionale a Piazza di Siena. Alla presenza del Duce la squadra francese conquista la Coppa d'Oro Mussolini. La squadra italiana che col capitano Filipponi su un asello ha marcato il miglior punteggio fra i 28 concorrenti si è classificata seconda. La squadra francese conquista la Coppa d'Oro Mussolini. La squadra francese conquista la Coppa d'Oro Mussolini. La squadra francese conquista la Coppa d'Oro Mussolini.